E' una vita in vacanza, ci vorremmo stare, come se ci vorremmo stare, sono qui con Bevo dello Stato Sociale, sono molto molto contenta per Studio 90 Italia, ecco un pezzo dello Stato Sociale. Sì, un quinto. E' un quinto, ne mancano altri, ma questa sera finalmente Festival di Sanremo, esordio per lo Stato Sociale, dopo aver fatto, l'anno scorso eravate dalla mia parte praticamente. Sì, eravamo con le Iene, eravamo, sì, esatto. Quindi dovrei dire, il titolo della vostra canzone è a ripetizione, però ancora non l'ho sentita, quindi come facciamo? Farò un tempo qualche ora e secondo me te la canticchierai volentieri. Ok, e vi dovrò inseguire cantando la vostra canzone in continuazione, come avete fatto voi l'anno scorso. Ah, se te la senti, guarda che noi corriamo veloci comunque. Cosa vi aspettate da questo Festival di Sanremo? Esordio, quindi? Sì, beh, chiaramente ci aspettiamo di esordire e che vada tutto per il meglio, no, beh, è una bella esperienza, insomma, è un dischetto circo, quindi è anche difficile prendergli le misure. Noi siamo convinti di aver portato una cosa bella e quindi proviamo a farla passare. Ironici, irriverenti, divertenti, simpatici, cosa accadrà su quel palco? Dobbiamo aver paura? Succede una cosa che non ti posso raccontare, ma di cui domani parleranno tutti e che sì, fa molto spavento. Quindi cominciamo a tremare, amici tremate, perché lo stato sociale arriva. Tu ridi, ridi, ma fa paura per davvero. Allora, aspettiamo e incrociamo l'incrociabile a questo punto. Lo stato sociale io li ringrazio, grazie anche, salutiamo tutti gli altri anche se non ci sono in questo momento. Un grandissimo bocca al lupo per voi. Crepi, grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.